Padre Dolindo Ruotolo battezza mio figlio Giovanni Dolindo Pio, cervo di cognome. Il nome del padre, del figliolo e dello spirito santo così sia. Ecco una funzione bellissima figlioli miei cari, il battesimo di un bambino, che possiamo dire il bambino del miracolo, perché in realtà c'è stato un intervento particolare della bontà e della providenza di Dio in questo bimbo. E le tappe principali di questo cammino providenziale sono state queste. Prima tappa, i genitori decideravano un figliolo ardentemente e credevano di non poterlo avere. Passavano i mesi e erano desalati tutti e due. Allora vado a un'immaginetta e gli scrissi il nome di Gesù Benedetto, a primavera sboccerà il fiore, esattamente a primavera sbocciò il fiore. A presto. Poi passarono tre mesi e sembrava che la cosa ci complicassero, e sembrava che il bambino potesse essere morto già. Dunque, e allora mi disse la zia sua, la zia del bambino, il soventino, mi disse, vado, scrivete un immaginetto. Avendo saputo io che si stava proprio all'orlo di quello che si doveva fare per annettare, cioè non per annettare, ma per esser fare quello che poteva essere un pericolo di avverenamento nel sangue della madre, io disse, figlio la carta, ma come posso io scrivere? Ma ad ogni modo, lei dice Nave Maria, la Madonna, ed io apri lo scatoletto delle figure, e prese una figura, dove ci stava Gesù che spezzava un grappolo di uva, ma il grappolo rimaneva ancora per un filo sospeso all'uva, e Gesù mi scrisse, il bimbo è legato ancora per un filo alla vita, provvedete perché il bimbo deve andare avanti, e di fatto si provvede perché stanzia dalla lontanese di questa cara creatura. Dunque, e mentre le cose sembravano catastrofiche, andava avanti felicemente, come vedete, tanto felicemente che sta qua il guappone, e quindi non si può dubitare che si è andata avanti felicemente. L'altra tappa, figlio le cari, ebbene, è l'obbedienza che io diedi, sempre con la benedizione che dova le mamme quando devono parte lì, e fino ad ora non è fallito nessuno, perché Gesù bello sa con quanto fede io do queste benedizioni. E allora, ho dato l'obbedienza al piccoletto, e dicevo, questo è piccoletto, e il maschio deve essere sacerdote, considerando il desiderio stesso del padre, che per questo deciderava un figliolo. Dunque, ecco, fate sentire pure lo piante dell'anteletto, no, fate lo piante, io piacere. Dunque, e allora gli ho dato l'obbedienza, di venire alla luce senza dare fastidio alla madre, se capisci, il po' di fastidio lo doveva dare, se proprio doveva dare sotto la sedia, doveva dare un po' di fastidio alla persona che sta vicino e ci ha alzato, per piacere, e allora ti questo qua, per piacere. Dunque, e allora, il bambino ha tanto fastidio, non l'ha dato come ha saputo, e invece è andato tutto felicemente. Io poi mi minacciai, e disse, guarda bene, non ce l'ho detto, che se tu non ti partisci venire e ti scocozzò, e il bambino si è avviato paura di essere scocozzato. Capito, figlio e ragazzi? Ora io vi dico, che cosa è la nascita di un bambino che il padre ha desiderato per essere come sacerdote di Dio, che io ho annunziato come sacerdote di Dio, e nemmeno immaginati che ho scritto al padre? Di nuovo l'ho pregonizzato sacerdote di Dio, sacerdote santo, figlio e ragazzi. E' una vita che sboccia in questa terra con un segno particolare della providenza di Dio e della bontà di Dio. E allora è un fiore delicato, è un fiore prelibato, per cui figlio e ragazzi, in tutta l'accortezza del padre e della madre, ne sono certe perché il padre lo conosco da bambino, ed è un buavissimo giovane, è tanto educato nelle cose di Dio, da quell'antra della sorella sua, da piccolo l'ha dato lei il primo bagno a suo bambino, grande, 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 lei l'ha dato il primo bagno, dunque l'ha dato il bagno, e questo beccalino lo tenevano nei bracci e lo addormentava, e lo addormentava nel nome di Gesù appassionato, Gesù Cloccivice, appena si sbocciava l'uso della ragione lo parlava di Gesù Cloccivice, e tutto questo l'ha affermato col padre e carissimo signore professore colendissimo che voi vedete qua presente, dunque, ero piccolo piccolo, ma io non ho pezzi di uomo, non ho pezzi di uomo, ma poi avevano un senso di amore, ve lo dico, non me lo dico per te, che sapete quando vi voglio bene. E allora figlioli miei cari, essi hanno avuto a Dio un fiore, quando Mosè fu messo dalla madre nell'occo del Nilo, in una cesta, e ha messo la figlia sua di guardia, perché dovevano essere massacrati tutti i primogeniti, tutti i maschi dovevano essere massacrati. E allora, la figlia si è messo di guardia, andò la figliola del farone a bagnarsi, e vedo questo bimbo così bello, io credo che mi va somigliando poco a Sanzaletta, perché sapete che questi bamboni così belli che quelli sono innamorò. E allora dice, come si fa per trovare una nutrice, per nutrire questo bimbo? La donna che stanno innamorata mi ha detto, a cortezza rispondendo, mi vuole trovare questo, faccio vedere l'indifferenza, che andate a trovare il principesso? E come, questo bimbo così bello, lo voglio salvare, me lo voglio prendere per me. Ah, io vi posso trovare la nutrice. E allora ha disfilato la madre, dice, mamma, io ho trovato una nutrice, che vorresti trovare questa nutrice, vieni tu, ecco la nutrice, che era proprio la mamma. Allora la principessa dice, acce per buono, mi ha tenuto i mici, questo è un bambino che è tutto un mire, che l'ho salvato io dalla terra, nutricilo per me. Così dice Gesù, il padre e la madre, e a tutta la famiglia. Questo è un bambino mio, dice Gesù, perché l'ho scelto, l'ho fatto venire sulla terra per me, per essere un santo, e può essere un santo, qualunque creaturo può essere santificato. Diceva questo bimbo, e nutricilo per me, e dunque bisogna nutrirlo per Gesù, e per Maria, figlio legale. Come si fa per nutrire il bimbo, in Gesù e Maria? Come fa la mamma per nutrire il bimbo? Se la mamma pigliasse un lembo del lenzuolo, e lo attorcigliasse, dice, non tristi di figlio la mia bella, guarda quanto è bello questo lembo del lenzuolo, il bambino addenderebbe pure, addenderebbe, no, tanto non lo dire, ma piglierebbe in bocca, come fosse mio fratello, Monsignore quando nacque, mio fratello, quando papà era disponibile, vedevo per ci dire che è nato un bambino, io andavo, con mia sorpresa, trovavo mio fratello con lenzuolo in bocca, allora era nato, se sono già volenzuolo, perché è in mancanza di meglia, pensate di pigliare solo un zolo in bocca, se non le vi fa un povera, dunque, e così dico, bisogna, se la mamma deve metterlo, e io vi prendo i 500 volte, se lo sopportano di latte, perché le ragazze, danno giurlo solo voi, non mette neanche pasticci di latte artificiale, solo voi dovete non giurlo, perché dovete dare il vostro cuore, la vostra vita, l'anima sopranaturale, che dovete avere, una grande fede, uno spirito di preghiera, un pieno abbandono, una bontana, una bontana di Dio, uno spirito di pace, questo ve lo raccomando a Sa, io sa come c'è, perché c'è due persone, onestissime, educatissime, ma qualche volta, le quarta possono pure venire, figliare la carne, e le quarta non si riflette, quello che si fa, quello che si dice, e il bambino, i bambini, i grandi, i piccoli, i chiunque, devono vivere sempre, in un ambiente di pace, di altissima pace, che rinunce, delle proprie belleità, delle proprie zelosie, delle proprie miserie, dei propri ripicchi, di poter levarsi, i piedi da scarpi, che è una cosa brutta, 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 plateale, e da passi, e mi metto la strada, figliare la carne, questo bisogna, d'ordine, ma non nel caso vostro, perché questo è buono, ma potremmo, sorgere nel cuore, in qualche momento, di indubbio, di un momento, di nervi, di questi maledetti nervi, i quali sono pessimi consiglieri, e ci mettere in condizione, di trovarci poi, al cospetto di Dio, e Dio solo sa come ci troviamo, ecco figliare, voi dovete, in un ambiente di grande pace, di preghiera, di rossare insieme, anche ora che il bambino non capisce, sentire l'armonia del Santo Rosario, e ci vede Gesù sacramentato, non fate mai il campo a corso, quando si tratta di Gesù sacramentato, mi fida, non mi fida, c'è il tempo, non c'è il tempo, trovate il tempo per tutto, trovate il tempo per Gesù sacramentato, quando mia mamma, io ero piccolo, ero piccolissimo, avevo due anni, allora, quando mia mamma, quando io ero piccolo, mamma andava a farci la comunione, tutti i giorni, avevo 12 figli, tutti i giorni, non è arrivata, alla glorificazione, di mamma, di cerco, ma certo, ne avevo 12, voi ne avevate avuto 13, e quindi, non era la cosa, ma dico, io mi mettevi vicino alla porta, e mi mettevi a aspettare, mamma un'ora, due ore, in piedi, nei due anni, quando mamma entrava, io aprivo la bocca, allora cominciava la mia carriera, e ciò c'è mo, perché aprivo la bocca, perché mamma mi avesse soffiato nella bocca, non capivo, ma capivo che quello era un piatto, santificato dalla presenza di Gesù, e certo, mi è sorso che nel cuore, un grande amore a Gesù, e sono stato soffiato, ora dico, voi, se vi fanno la santa comunione, è realizzato, sul volto di questo piccolo, il piatto di Gesù, sacramentato nel vostro cuore, voi avete dato al bimbo, un elemento di vita, come l'avevo di io, quando ero piccolissimo, più nell'armonia della preghiera, il bambino, può sentire soltanto quell'armonia, io ho sentito più soltanto i bambini, i quali seguivano il padre e la madre, e ci andavano, non potevano pronunciare le parole, ma dicevano semplicemente l'armonia, ci credevano di dire, perché rimanevano presi, eliminate completamente, televisore, cinema, divertimenti, e discorsaggi brutti, che potete fare con le persone, che vengono in casa, e se qualcuno dicesse qualche parola, fuori cesti imponenti, che si negge immediatamente, come in Borreste si negge a uno, che ti nasce a rivolgere la mano, e dice, vai, se parevo vicino, poi gli poteva fare la tua rica, poi se lo fate, d'un cotadino, e le patate, e non mi pare, quindi, non c'è una cosa, che più distrugge la vita, di un bimbo, quanto il televisore, non c'è una cosa, che più distrugge la vita, di un animo, quando il cinema, e quando questi tocchi, questi contatti, col mondo, figlio ragazzo, perché, scientificamente, è accertato ora, dopo le bombe, di quel farabotto di Khrushchev, che, gli apparecchi di televisione, emettono radioattività, nocevolissime, per il corpo parlare, per il corpo, non si parla, radioattività, noi abbiamo avuto, nella nostra parola, quattro fasi, di epilettici, di bimbi, epilettici, per aver visto il televisore, sia per l'emozione, di quelle cose che vengono, e sia per queste radioattività, poi, soprattutto, per l'anima, perché mi perdono essere malediosi, perdono la serenità, di quell'infante, dove parla, il Signore, dove agisce soltanto il Signore, per conseguenza, voi dovete essere gelosi di quest'anima, come siete gelosi della pupilla dell'occhio vostro, anzi, come siete gelosi di un'ostia consagrata, e se aveste un'ostia consagrata, voi nella vostra casa, voi, con quanto a cura, correreste a Gesù, e ci mettereste la lampada, come fanno questi buoni, e cadere su ora, con Gesù salamentato giù, ecco, questa è un'anima, che nel battesimo, viene incorporato a Gesù, e fa parte del corpo mistico di Gesù, diceva, lo Spirito Santo, con i doni della fede, della speranza e della carità, cioè, mette questi semi, meravigliosi, nel cuore, nella mente, nell'anima di questo bimbo, e questi tre semi, devono svilupparsi, e come si sviluppa, prima di un caso, il termine della vita, nel seno della madre, per l'attività del padre, così si deve sviluppare, nell'anima sua, questo germe di vita, soprannaturale, che viene dello Spirito Santo, fede, speranza e carità, per questo c'è poca fede, nel mondo, perché, le cose della fede, si pigliano superficialmente, e invece, la fede, la speranza e la carità, germogliando in questa creatura, noi vedremo, che questa creatura, diventa quello che Gesù vuole, non tanto, e poi, dimostrare, ce la auguriamo, lo domandiamo a Dio, lo decideriamo, con tutto il cuore, glielo ha annunciato, sulle montinette, che gli ho fatto, è bene che sia sacerdote, e sacerdote santa, che è mitologia sua, che è sacerdote, e se è sacerdote attivo, perché se mi ce li ho fatto, di Dio, dunque, allora, che cosa noi dobbiamo fare, in questo momento, seguirmi con la preghiera, quella cosa latina, che voi non capirete, ma non ci ho pazienza, tutti questi, non ho studiato latino, il professor qua, che è merito, il professor, voi, vorreste studiato qua, più o meno, madonna, ma io la dirò, così chiaramente, la farò, la domandiamo, e devo dare al signore, un ringraziamento speciale, perché ho fatto trovare, quest'angelo, della dottoressa, dice, la quale un maestro, chiamava la dottoressa, ma scusate, a chi avrei chiamato la dottoressa, io ci stavo nella metà, tra, o a parte che stanno faccio, allora, quando incontrate, la dottoressa, come sta, non va, e voi siete un angelo, finalmente, è stato tanto, tanto buono, di tanto valore, significa, che quattro state, se non mi scopre male, i quali discutevano, e con voi presenti, e voi dicevate, bisogna fare così, e quelli dicevano no, e poi finalmente, vi incontrate, e poi quando c'erano cuore, disse, noi siamo quattro pezzi, perché non è una parola tecnica, noi siamo quattro pezzi, disse, di fronte a questa, credo, erano i capi, i capi, dalle ostentizie di Napoli, e allora, ringrazio Dio, che vi ha fatto venire, questa buona creatura, ringrazio quell'avvocato, che andò su e giù, per rintracciarla, e forzarla, presso di questa buona mamma, e di questo buon padre, ringrazio tutti quelli, quali, sono presenti, delle preghiere, che fate, che farete, che dovete fare, nell'idimo del vostro cuore, per dare a questo fanciullo, a questo bambino, il contributo, della vostra preghiera, e del vostro esempio, dovete vivere, di Dio, dimenticatevi del mondo, dimenticatevi il pazzarietà, capo a vostro, perché è la mia casa, dimenticatevi le agitazioni, del vostro cuore, voi dovete essere di Dio, per Dio e con Dio, per dare al bambino, la vita di Dio, con Dio e per Dio, e se quel bambino, possa da questa terra, sorgere, poi di qui, a 50 anni, quando saranno, che il Signore, gli ha dato vita, possa arrivare all'eterna vita, di questo ci dobbiamo preoccupare, noi ci troveremo, dinanzi a Dio, nell'eternità, figlio di cari, non è scherzo, e nell'eternità daremo conto, di ogni più piccola cosa nostra, di tutte le miserie dell'anima nostra, di tutti gli spetti, i ripicchi, le angustie, i risvegli, quello che è posto per noi, di miserabile, peggio di peggio, dei peccati, delle immurità, delle struzioni della carne, di tutto quello che è passato, nella nostra vita, daremo conto, severissimo, noi invece dobbiamo essere, così limbi di Dio, così umili, innanzi alla sua, omnipotente, grandezza e bondate, così poveri di spirito, come ci ha voluto Gesù, ma poveri di spirito, nel senso di quella povertà, che ci fa diventare piccoli, di ante Dio, che trae Dio nel nostro cuore, e dimostriamo l'aiuto della Madonna, sotto il comando che l'ho messo, al primo momento, che avevo saputo che era nato, io stavo in preghiera quando è nato, perché io stavo in preghiera, in grande preghiera, dalle 4 al mattino va bene, ma alle 6 e 10 minuti, io mi sono messo in grande preghiera, e seguivo le parti di questo bambino, senza sapere, quello che è successo, e quindi è nato, diciamo così, tutto l'implosso della preghiera, e della preghiera a Maria, a Maria, abbiate sempre questa altanta devozione alla Madonna, abbiate il cuore pieno di Maria, abbiate il cuore tutto di Maria, abbiate il cuore, osannante a Maria, forzando il rosario, e con la vita, e non vi preoccupate, figlio, se io sono giungato, se non mi mettete paura, che mi affanno, non mi affanno niente, perché io sono cavallo di battaglia, allora mi benedico tutti quanti, e incominciamo questa santa consiglia, la santa patricina, registrate pure le parole, la santa patricina, Giovanni Dolinto Pio, che cosa chiedi dalla Chiesa di Dio? La fede. Che cosa ti procura la fede? La fede. Se dunque voglio avere la vita eterna, osserva i comandamenti, ammai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, il prossimo è tuo come te stesso. Ora caccio il demane, che mi festa questa animazione. Ecco, il mondo spiritus, e tutto l'uomo spiritus, e tutto l'uomo spiritus, e tutto l'uomo spiritus, stiamo infonti quando ingordano, e da tali c'è stuff moribus, e tutto il tempo è lo che mi ha messo a Vassini, a Remus. Il nostro seguito è il nostro domenico, chiamato il registao, e quindi non ci sono più amici. Lo chiuso, e se non ci sono più amici, non ci sono più amici, ma non ci sono più amici, e si sono più amici, ma non ci sono più amici. Buongiorno. 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 grazie Aspettate come se la dama E poi cambiamo la storia Giovanni Dolin Doppio Credi in Dio Padre Nipotente Creatore del Cielo e della Terra Credo Credi in Gesù Cristo Unico Cio Figliolo Il quale nacque e patì per noi Credo Tutti quando vede rispondente all'estero Perché l'azzo di fede vostro deve aiutare la fede di questa creatura Credi nello Spirito Santo La Santa Chiesa Cattolica La comunione dei santi La remissione dei peccati La resurrezione della carne E la vita eterna Credo Giovanni Dolin Doppio Vuoi essere battezzato? Sì Ecco mi viene un momento Giovanni Dolin Doppio Prego Devo e patizzo Un nome di Padre Che è il tuo figlio E il tuo Spirito e il tuo Santo E il tuo Spirito e il tuo Santo E il tuo Santo Amen Amen Signore grazie Signore grazie Om capability Om E pensate che tutti dobbiamo cooperare perché l'abortino Immacolata innanzi al cospetto di Dio, ve lo dico in italiano, ricevi la peste candida che tu dovrai portare immacolata innanzi al tribunale di Nostro Signore Gesù Cristo, è la candela che è il simbolo della fede, ricevi la candela ardente e custodissi rapprensibilmente il tuo battesimo, osserva i comandamenti di Dio, affinché il Signore verrà alle nozze eterne, tu possa andare innanzi a Lui, con tutti i santi, nellaستra e vive per tutti i setel e i secoli Giovanni Piacurbi, il Signore secondi, ora lo consacro a Gesù, alla Madonna, all'Adorabile della Dinnità, Santissima Dinnità, Badre, Figlio, Spirito Santo, noi ti offriamo questo fiore sbocciato dal sangue pregiudissimo di Gesù Cristo in questo momento per il Santo Potesimo a ciò che sia santo, sano buona, consolazione dei suoi genitori della sua nonna dei suoi nonni, della sua famiglia tutta quanta e sia veramente un esempio di mistura e di pace Gesù ci ha commentato credo amore che sei vivo e vero in questa casa perché sei giù nel tabernacolo dell'amore glielo consacro al tuo amore perché abbia un grande amore questo di Gesù sacramentato e perché si cibbia attraverso della mamma con l'arte, attraverso del padre col piatto del suo amore e della sua pietà di Gesù sacramentato ogni giorno fino al momento nel quale dovrà riceverlo lui stesso e dovrà lui stesso farlo di scendere dal cielo metti nei belli ma con la terecina lo metti nel tuo cuore e te lo consacro ma mi ha deciso metti il manto il manto duro questo bambino deve essere un sacerdote santo io lo domando a te in questo momento solenne nel quale io gli do la vita soprannaturale la vita della grazia che gli dai tu stesso signore Vergine e bella come custodisci Gesù sul petto tuo custodisci questo bimbo sul cuore tuo come custodisci Gesù dell'Empio Verode custodisci questo bimbo da tutti gli assalti del mondo che tendono a distruggere le anime innocenti con il tanto visore col cittimo con tutte queste peccarie del mondo che sono cose inette e dinanzi a Dio portano la connazione eterna per le anime che ci lasciano la terra del mondo maledetto Vergine e bella custodisci quest'animo benedetto farla crescere una vittura c'è il possesso veramente un tanto se ti addorlino signora donna a lui Vergine e bella donna a lui un grande amore a Gesù quale lo avresti tu e portalo un giorno di qui a 100 anni nel paradiso ti benedio che ti ha salvato il cittino bello 1961 il padre Dolindo Ruotolo battezza mio figlio Giovanni Dolindo Pio cervo di cognome il nome del padre del figliolo dello spirito santo così sia ecco una funzione bellissima figlioli miei cari il battesimo di un bambino che possiamo dire il bambino del miracolo perché in realtà c'è stato un intervento particolare della bontà e della providenza di Dio in questo bimbo e le tappe principali di questo cammino providenziale sono state queste prima tappa i genitori decideravano un figliolo ardentemente e credevano di non poterlo avere passavano i mesi e erano desalati tutti e due allora vallero un'immaginetta e gli scrissi il nome di Gesù Benedetto a primavera sboccerà il fiore esattamente a primavera sboccerà il fiore ma presto poi passarono tre mesi e sembrava che la cosa ci complicassero e sembrava che il bambino potesse essere morto tante dunque e allora mi disse la tia sua la tia del bambino Salentino mi disse padre scrivetemi un'immaginetta avendo saputo io che stava proprio all'orlo di quello che si doveva fare per annettare cioè non per annettare ma per estipare quello che poteva essere un pericolo di apparenamento nel sangue della madre io gli dice figlio l'alarma come posso io scrivere ma ad ogni modo lei dice nave maria la madonna ed io apri lo scatoletto delle figure e prese una figura dove ci stava Gesù che spezzava un grappolo di uva ma il grappolo rimaneva ancora per un filo sospeso all'uva e Gesù mi scrisse il bimbo è legato ancora per un filo alla vita provvedete perché il bimbo deve andare avanti e di fatto ci provvede perché stanzi dalla vostra di questa cara la creatura dunque e mentre le cose sembravano catastrofiche andava avanti felicemente come vedevi tanto felicemente che sta qua un po' a pone quindi non si può dubitare che si è andata avanti felicemente l'altra tappa figlio legato ebbene l'obbedienza che io ti vedi sempre con la benedizione che dava le mamme quando devono partire e fino ad ora non è fallito nessuno perché Gesù sa con quanto fede io do queste benedizioni e allora ho dato l'obbedienza al piccoletto e dicevo questo è piccoletto e il maschio deve essere esagerizzato considerando il desiderio stesso del padre che per questo deciderava un figlione dunque ecco fate sentire pure lo piante l'anteletto no fate lo piante il monete io piacere dunque e allora gli ho dato l'obbedienza di venire alla luce senza dare fastidio alla madre se capisci pochi fastidi lo doveva dare se proprio doveva sotto la sedia gli doveva dare pochi fastidi alla persona che stava vicino e c'è alzato per piacere e allora questo qua per piacere dunque e allora il bambino tanto fastidio non l'ha dato come ha saputo invece è andato tutto felicemente io poi lo minacciai e disse guarda bene non ce l'ha detto che se tu non ti partì venire e io ti scocozzo e il bambino si è affidato paura di essere scocozzato capito figlio ragazzi ora io vi dico che cosa è la nascita di un bambino che il padre ha desiderato per essere come sacerdote di Dio che io ho annunziato come sacerdote di Dio e ne ho immaginato che è scritto al padre di nuovo l'ho pregonizzato sacerdote di Dio sacerdote santo figlio ragazzi è una vita che sboccia in questa terra con un segno particolare della providenza di Dio e della bontà di Dio e allora è un fiore delicato è un fiore prelibato per cui figlio ragazzi in tutta l'accortezza del padre e della madre ne sono certe perché il padre lo conosco da bambino ed è un buavissimo giovane è tanto tanto educato nelle cose di Dio da quel anzio della sorella che da piccolo l'ha dato lei il primo bagno a suo papaleone grande 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 lei l'ha dato il primo bagno dunque l'ha dato il bagno e questo boccalino lo teneva in le braccia e lo addormentava e lo addormentava nel nome di Gesù appassionato Gesù crocevice appena si sbocciava l'uso della ragione lo parlava di Gesù crocevice e tutto questo lo aveva formato colpare carissimo signore professore colandissimo che voi vedete qua presente dunque era piccolo piccolo ma era vecchia di uomo la pregona in senso di amore ve lo dico capite ma lo dico per te che sapete quando vi voglio bene e allora figliolini cari essi hanno avuto a Dio un fiore quando Mosè fu messo dalla madre nell'acqua del Nilo in una cesta e mise la figlia sua di guardia perché dovevano essere massacrati tutti i primogeniti tutti i maschi dovevano essere massacrati e allora la figlia si è messa di guardia tanto la figliola del farone a bagnarsi e vede questo bimbo così bello io credo che va somigliando a Bocca Sancialetto perché sapete che avessi un babbone così bello che quelli sono innamorò e allora dice come si fa per trovare una nutrice per nutrire questo bimbo le donne che tengono sempre mi ha detto a cortezza rispondermi quello di questo perché c'era indifferente che andate trovando il principese e come questo bimbo è così bello lo voglio salvare me lo voglio salvare per me ma io vi posso trovare la nutrice e quello di filato alla madre dice mamma io ho trovato la principessa che volessero questa vita vieni tu ecco la nutrice che era proprio la mamma allora la principessa dice alci per buro mi ha tenuto i mici questo è un bambino che è tutto mio che l'ho salvato io dalle altre nutricilo per me così dice Gesù il padre e la madre e tutta la famiglia questo è un bambino mio dice Gesù perché l'ho scelto e l'ho fatto venire sulla terra per me per essere un santo e può essere un santo qualunque creaturo può essere santificato diceva questo bimbo e nutricilo per me e dunque bisogna nutrirlo per Gesù e per Maria figlio le cani come si fa per nutrire il bimbo in Gesù e Maria come fa la mamma per nutrire il bimbo se la mamma pigliasse un lembo del lenzuolo e lo attorcigliasse e dicesse non tristiti pigliare il mio padre guarda quanto è bello questo lembo del lenzuolo il bambino attenderebbe pure un bambino attenderebbe un'ottante non lo dire ma pigliare il mio bocco come fosse mio fratello Monsignore quando nacque mio fratello venne a papà e dice venite vedevo che è nato un bambino io andavo con mio sorpreso trovavo mio fratello con lenzuolo in bocco allora è nato se ciavo lenzuolo perché è in mancanza di meia pensate di pigliare solo lenzuolo in bocca se mi devi fare un po' e così dico bisogna se la mamma deve nutrirlo e io vi benedifici tante volte se lo sopportante di latte perché le ragazze devono nutrirlo solo voi non mette neanche pasticci di latte artificiale solo voi dovete nutrirlo perché dovete dare il vostro cuore la vostra vita l'anima soprenaturale che dovete avere una grande fede uno spirito di preghiera un pieno abbandono uno spirito di pace questo ve lo raccomando io so come c'è perché c'è due persone onestissime educatissime ma qualche volta i quarti possono pure venire figliare la carne e nei quarti non si riflette quello che si fa quello che si dice e i bambini i bambini i grandi i piccoli i chiunque devono vivere sempre in un ambiente di pace di altissima pace che rinunce delle proprie belleità delle proprie delosie delle proprie miserie dei propri ripicchi di levarsi di pietra da scarpe che è una cosa brutta 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 plateale e da farci e mi metto la strada figliare questo bisogna di mettere ma non nel caso vostro perché questo è buono ma potremmo risorgere nel cuore in qualche momento di indubbio di un momento di nervi di questi maledetti nervi i quali sono pessimi consiglieri e si mettono in condizione di trovarci poi al cospetto di Dio e Dio solo sa come ci troviamo ecco figliare voi dovete in un ambiente di grande pace di preghiera di Dio e Rosario insieme anche ora che il bambino non capisce sentire l'armonia del Santo Rosario ricevete Gesù sacramentato non fate mai campocorso quando si tratta di Gesù sacramentato mi fida non mi fida c'è il tempo non c'è il tempo trovate il tempo per tutto trovate il tempo per Gesù sacramentato quando mia mamma io ero piccolo ero piccolissimo avevo due anni allora quando mia mamma quando quando io ero piccolo mamma andava a farci la comunione tutti i giorni aveva 12 figli tutti i giorni non è arrivata alla verificazione di mamma di Cervo ma certo ne aveva 12 ma ne aveva 13 e quindi non era ma dico io mi mette vicino alla porta e mi mettevi a aspettare mamma un'ora due ore in piedi nei due anni quando mamma entrava io aprivo la bocca allora cominciava la mia carriera perché aprivo la bocca perché mamma mi avesse soffiato nella bocca non capivo ma capivo che quello era un piatto santificato dalla presenza di Gesù e certo mi assorto nel cuore un grande amore a Gesù e sono stato soddisfatto ora dico voi se vi fanno la santa comunione è validato sul volto di questo piccolo il piatto di Gesù sacramentato nel vostro cuore voi avete dato al bimbo un elemento di vita come l'avevo di io quando ero piccolissimo più nell'armonia della preghiera il bambino può sentire soltanto quell'armonia io ho sentito più soltanto i bambini i quali seguivano il padre e la madre non potevano pronunciare le parole ma dicevano semplicemente l'armonia perché rimanevano presi eliminate completamente televisore il cinema divertimenti e discorsaggi brutti che potete fare con le persone che vengono in casa se qualcuno dicesse qualche parola fuori cesto imponente che si negge immediatamente come imborreste il silenzio a uno che ti mette a rivolgere e mi diceva io sparavo vicino e mi poteva la palla e non mi pare quindi non c'è una cosa che più distrugge la vita di un bimbo quanto il televisore non c'è una cosa che più distrugge la vita di un animo quanto il cinema e questi contatti col mondo perché scientificamente è accertato ora dopo le bombe di quel farabotto di Khrushchev che gli apparecchi di televisione emettono radioattività nocevolissime per il corpo e per il corpo radioattività noi abbiamo avuto la nostra parola c'è quattro di epilettici di bimbi epilettici per aver visto intervisto sia per l'emozione di quelle cose che vengono e sia per questa radioattività poi soprattutto per l'anima perché mi pare non essere malediosi perdono la serenità di quell'infante dove parla il Signore dove agisce soltanto il Signore per conseguenza voi dovete essere gelosi di quest'anima come siete gelosi della pupilla dell'occhio vostro anzi come siete gelosi di un'ostia consagrata e se aveste un'ostia consagrata voi nella vostra casa voi con vanta cura curerete a Gesù e ci mettereste la lampada come fanno queste buone e cade su ora con Gesù salamentato giù ecco questa è un'anima che nel battesimo viene incorporata Gesù e fa parte del corpo mistico di Gesù diceva lo Spirito Santo con le donne della fede della speranza e della carità cioè mette questi semi meravigliosi nel cuore nella mente e nell'anima di questo bimbo e questi tre semi devono svilupparsi e come si sviluppa prima di un caso il termine della vita nel seno della madre per l'attività del padre così si deve sviluppare nell'anima sua questo termine di vita soprannaturale che viene dallo Spirito Santo fede speranza e carità per questo c'è poca fede nel mondo perché le cose della fede si vengono superficialmente e invece la fede la speranza e la carità germogliando in questa creatura noi vedremo che questa creatura diventa quel che Gesù vuole non tanto e poi dimendare ce la auguriamo lo domandiamo a Dio lo decideriamo con tutte le cose glielo hanno annunciato sulle macchinette che gli ho fatto ebbene che sia sacerdote e sacerdote santo che imite lo Zio suo che è sacerdote e siamo sacerdote attivi perché è il misericordio di Dio dunque allora che cosa noi dobbiamo fare in questo momento seguirmi con la preghiera quella cosa latina che voi non capirete ma non ci ho pazienza tutti forse noi non studiate latino il professor qua è il merito il professor voi voi potete studiare più o meno ma ogni mattina dirò così chiaramente devo fare l'entrata e poi ho dato al signore un ringraziamento speciale perché ho fatto trovare quest'angelo della dottoressa io dice la quale un maestro chiamava dottoressa ma scusate a chi è vero chiamava dottoressa ci si ritrava nella metà tra ho fatto che stanno facendo allora quando incontrate la dottoressa non va a fare voi siete un angelo finalmente è stato tanto tanto buono di tante valore significa che quattro state non mi scordano mai i quali discutevano e con voi presenti a voi dicevate bisogna fare così e voi dicevano no e voi finalmente venivano in buono e poi quando si dicevano voi noi siamo quattro feste perché non devo fare la parola tecnica noi siamo quattro feste di fronte a questa credo erano i capi capi dell'osteticia di Napoli e allora ringrazio Dio che ha fatto venire questa buona criatura ringrazio che l'avvocato che andò su e giù per intracciarla e portarla presso di questa buona mamma e di questo buon padre ringrazio tutti quelli i quali sono presenti delle preghiere che fate che farete che dovete fare nel vino del vostro cuore per dare a questo fanciullo a questo bambino il contributo della vostra preghiera e del vostro esempio dovete vivere di Dio dimenticatevi del mondo dimenticatevi il pazzarietà capo a vostra per l'amerare dimenticatevi le agitazioni del vostro cuore voi dovete essere di Dio per Dio e con Dio per dare al bambino la vita di Dio con Dio e per Dio e se quel bambino possa da questa terra sorgere poi di qui a 50 anni quando saranno che il Signore gli ha dato vita possa arrivare all'eterna vita di questo ci dobbiamo preoccupare noi ci troveremo dinanzi a Dio nell'eternità figlio di Dio non è scherzo e nell'eternità daremo conto di ogni più piccola cosa nostra di tutte le miserie dell'anima nostra di tutti gli spetti i ripicchi le angustie i rispelli e quello che è passato per noi di miserabile peggio di peggio dei peccati delle imunità delle strutture della carne di tutto quello che è passato nella nostra vita daremo conto severissimo noi invece dobbiamo essere così limiti dinanzi a Dio così umili dinanzi alla sola omnipotente grandezza e bondate così poveri di spirito come ci ha voluto Gesù ma poveri di spirito in essenza di quella povertà che ci fa diventare piccoli dinanzi a Dio che trae Dio nel nostro cuore e dimostriamo l'aiuto della Madonna sotto il comando che l'ho messo prima al momento che avevo saputo che era nato io stavo in preghiera quando è nato perché io stavo in preghiera e in grande preghiera dalle quattro mattina la bella ma alle sei e dieci minuti io mi sono messo in grande preghiera e seguivo le parti di questo bambino senza sapere quello che è successivo e quindi è nato diciamoci tutto l'emblosso della preghiera e della preghiera a Maria a Maria abbiate sempre questa tanta devozione alla Madonna abbiate il cuore pieno di Maria abbiate il cuore tutto di Maria abbiate il cuore osannante a Maria col santo rosario e con la vita e non vi preoccupate se io sono giungato se non mi mettete paura che mi affanno non mi fa niente perché io sono cavallo di battaglia allora mi benedico tutti quanti e incominciamo questo santo consiglio santo patricino perché state pure le parole a te Giovanni Dolindo Pio che cosa chiedi dalla chiesa di Dio la fede che cosa ti procura la fede la vita eterna se dunque vuoi avere la vita eterna osserva i comandamenti amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima con tutta la tua mente il prossimo è tuo come te stesso ora caccio il domani che mi resta quest'animazione ecchi a me per la tua mente che non mi resta che non mi resta la tua mente non mi resta stiamo infronte quando mi accorde e di tali c'è sta moribus Il Tempolo Medea è messo a voi, oriamoci, pregetti nostri seguiti un domine, clamendo le chiesate, e dunque ho detto un domo ioannem, cruci sull'unice in gestione segnatum, per paese vestiti da custodio, e tu mani duri in seguiti due, ridimenti servanti, per custodio mandatare un dorme, da registrazione seguiti, per venire muriati, perché ci sono i nostri miei, oriamoci, omnibitano se mi donateva, su padre, domini nostri e suuristi, per spizzi che di nero superonco famulum e tumi, anem e durindum, quam e durindimento a fide, fegare di nascosto, omnibitano se ci adate a me cordi, sapevo che spelle, ci srumpiamo nel slago e sasatano, qui busse fuere atto collegato, apre ai domini, e hanno am pietati stu, a tu signo, sapienti tu, in butus, omnibitano i cupiditano, fai dori bussacariato, e tu adesuvavano i motori, che c'è un dormitore, ma lei da spedus tibi, in eglia c'è tua, da serviette, e ti bovici, tra i ghi e in ghi, per un ufficio, non è il nostro nome, bussacariato. Ecco la cosa. Ah, tibi, che non sovienti. Proprio già decidibili, mi dobbiamo dare un nome. Buonemus, Deus, Padre, monastro, Deus, univei secondi della verità, che subito e salsalamo, e tu non fanno un dom, io hanno un dolindum, respite le signere su provvigios, e tu accuprimi un popolo, un salis e gli ostanti, non di oggi, se il solile permittis, comino se cibo e spiegato il celesti, qua non si dite sempre, spide tu fervi, spiegavodens, tu sempre nomi e servians, per tu caramo domini, e questo non sta di nuovo, e la generazione se la pagano, e tu come fidelis, tu misciam, tu armi, e una prima cosa, che non segue immediato, perché sono nel nostro momento. Exercizio Dei, il mondo e spiritus, il nome del Padre, e tu figli, e tu spiritus santi, e texcias, e texchias, e traciè, sa bocca, ma letè, io e tu lindu, ibi, tra ibi, imperat maleditta, damnate, vedi, il super Mario Molavig, e tu vedri, i mostlyi, e tu per me, texram bodensi, ergo maleditta, diopoli, ragognosce, ascendentimentum, e da un nome a Dio vivo e a te vero, da un nome a Cristo Cristo e a Gesù Cristo Santo. E recede a Boccafomula Dei, Giovanna e Dolinio, io, che a Islumus Sibidevas e te do misi nostri a Gesù Cristo, e da Suomo San Demogratiam e te benediciam e fondeniscomo il Baptismo e dici vogali di niente. E toccociniam santo Grudius, quei donai soffronti a Gesù Damos. Tu, maleditta Ioboli, non mi ammeli a sorgerare. Non. Qui hai un petto? Don Cristo e te la orale, che sei presente per lui e, te... Ora film V Imagine Boccafomula Dei,una Devo Abreo e O… L'ema Proprio E' Habo Varnutato… Noi non mi sono sempre un bel aiuto di bruciare. C'è un nuovo palengo si trad unquote La tua persona viv bocca. Non incontentere l'aposcenza di chaotic Quando Santa Gesù Domenica è vero, ma ti dici, ti gradi, ti dicimi due effetti, ti hai fatto firma, non ti fai, mi consiglio, mi retto, mi dottrino, mi sanno, perché questo non è il nostro meglio. Giovanni, donendo via, entrano i tempi di Dio, i tempi di Dio sono io, e cosa lo Dio ci ha detto a voi, facciamo conto che noi siamo i tempi di Dio, entrano i tempi di Dio per avere fatto con Cristo nella vita eterna, tutti quanti, alta voce, io credo in Giovanni. che noi ironi potente, diregato coverso, cielo e della terra, il Gesù Cristo podito, unico Signore nostro, il quale fu concepito per la morte, la nato della Maria Santa Vergine, il Pardo di Sino Santa Forza di Lago, fu un concepesso, morto e sepporto, il sese di Dio Flexione Polio, un terzo di Dion'azione Saudita, salle братini deficitare. di un'altra venire a giudicare io credo nello spirito santo la santa madre chiesa la risurrezione della carne e la vita il nostro che c'è la vita il nostro padre quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come noi li mettiamo i nostri debitori e non c'è il nome di razione ma ne cresce la madre e non c'è il nome di razione e che lo avevo detto in donna ma non c'è il nome di razione e che ci sono esercizio Deo omnici spiritus e munde in nomine dei padris omnipotentes ed in nomine di esuvristi figlias domine e te iurisic nostri ed in virtù del spiritus santi utricede sa poco plasma da Dei Giovanni dolindo Pio quando domines nostra da te templum e santo insomma vogare di un altro resto tu vieni e te templum dei vivi e te spi e te spi e poi cambiamo la storia Giovanni dolindo Pio credi in Deo Padre omnipotente creatore del cielo e della terra credo credo credi in Gesù Cristo unico suo figliolo il quale nacque e patì per noi credo 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 tutti quanti avete rispondenza elettrica perché se la classe di fede forse deve aiutare la fede di questa creatura credi nello spirito santo la santa chiesa cattolica la comunione dei santi la remissione dei peccati la risicuzione della carne e la vita eterna e la vita eterna e la vita eterna e la vita eterna credo Giovanni dolindo Pio vuoi essere battezzato? ecco ecco mi viene un momento su Giovanni dolindo Pio ecco ecco grazie Vado a un giudice di Dio, vado a vedere la scuola. Eccolo, qua è scuola. E' buono, è scuola. Devo somnipoten, sbattere da mele nostri e su Cristi, Vado a vedere la vita che c'è, questo è il Spirito Santo. Qui vedete il libero, mi c'è il nome del peccatore. Io vi c'è delinio, lui mi ha detto, Cristo di Salute, Signore, Cristo di Visto, Domeno Nostro e Mio Materno. Amén. E pensate che tutti dobbiamo cooperare perché l'aborto immacolato innanzi al cospetto di Dio, ve lo dico in italiano. Dicevi la peste candida che tu dovrai portare immacolata innanzi al tribunale di Nostro Signore Gesù Cristo. E' la candela che è il singolo della fede. Dicevi la candela ardente e custodissi irreprensibilmente il tuo battesimo. Osserva i comandamenti di Dio, affinché il Signore verrà alle nozze eterne. Tu posso andare innanzi a Lui, con tutti i santi, nell'Avola Celeste e vive per tutti i secoli e secoli. Così sì. Giovanni, genito. Figlio. 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 Gesù Cristo. Noi ti offriamo questo fiore sbocciato dal sangue preziosissimo di Gesù Cristo in questo momento per il Santo Potesimo. A ciò che sia santo, sano, buono. Consolazione dei Suoi genitori, della Sua nonna, dei Suoi nonni, della Sua famiglia, e sia veramente un esempio di mistura e di pace. Gesù sacramentato ha detto amore che sei vivo e vero in questa casa perché sei giù nel tabernacolo dell'amore glielo consacro al tuo amore perché abbia un grande amore verso di Gesù sacramentato e perché si cibi attraverso della mamma col latte attraverso del padre col piatto del suo amore della sua pietà di Gesù sacramentato ogni giorno fino al momento nel quale dovrà riceverlo lui stesso e dovrà lui stesso farlo di scendere dal cielo. Vergine bello mi colate lecino lo metto nel tuo cuore e te lo consacro mamma del ciccio. Metti il mando il mando tuo su questo mamma deve essere un sacerdote santo io lo domando a te in questo momento solenne nel quale io gli do la vita soprannaturale la vita della grazia che gli dai tu stesso signore. Vergine bello mi colate Maria come costruisci Gesù sul petto tuo costruisci questo bimbo sul cuore tuo come costruisci Gesù dell'Empio Erode costruisci questo bimbo da tutti gli assalti del mondo che tendono a distruggere le anime innocenti col televisorio, col cinema, con tutte queste valglie del mondo che sono cose inetti e dinanzi a Dio portano alla donnazione eterna per le anime che si lasciano attrarre dal mondo maledetto. Vergine bello costruisci quest'anime benedetto farla crescere nella vestucia con il possesso veramente un tanto se si addorna signora donna a lui un grande amore a Gesù quale lo avresti tu e portalo un giorno di qui a 100 anni nel paradiso quand j'all ho Catungуйте che si l'eccuia Grazie.